Presidente, oggi un altro passo importante, adesso si pensa a domenica a finalissima con il Raffadale. Buongiorno a tutti, effettivamente è una finalissima da Cardiopalma, dovremmo metterci cuore, passione, testa e volontà di vincere questo campionato, cosa che manca da tantissimo tempo a canicattire. I ragazzi vengono fuori da una corsa strepitosa, a parte il fermo di Salemi, ci poteva stare, però sono fiducioso, questo è un gruppo forte, nonostante le assenze di Cipolla che è stato espulso, faremmo veramente questa battaglia. Ha parlato di cuore, oggi cuore e maturità nel suo canicattì. Sì, cuore e maturità, la partita si pensava di poterla gestire, poi purtroppo un episodio del nostro difensore ci ha lasciato in dieci, comunque poi la forza e l'esperienza del gruppo è venuto fuori. Nonostante il Camerat a cui vanno fatti i complimenti, perché avevano molti unorosi in campo, hanno veramente gestito la partita al meglio e c'è solo da fargli gli onori e i complimenti. Mister, non è stato facile, però grande prova di maturità del caricattì che ha saputo soffrire, vista l'inferiorità numerica, non ha rischiato nulla, però ha saputo soffrire e poi alla fine ha piazzato la zambata vincente. Sì, siamo rimasti in dieci uomini, dopo l'1-0 pensavo che dovevamo raddoppiare, invece l'esplosione di Cipolla ci ha tagliato le gambe. Onestamente il Camerat, anche se era imbottito di giovane, ha fatto la sua onesta partita, ha onorato il calcio fino alla fine, però poi alla fine l'esperienza, la forza di questa squadra è uscita fuori. E' giusto che sia così, noi siamo uno squadrone, anche in dieci uomini dovevamo vincere la partita per continuare il nostro progetto, ma principalmente il nostro sogno e di tutta la società, di andare in eccellenza. Domenica ormai tappa fondamentale, a cane cattiva e riaverrà fatali, sarà la partita clou di questo campionato? Sì, domenica è una partita molto importante, molto sentita, anche se oggi ci hanno buttato fuori Cipolla, siamo rimasti senza il nostro difensore centrale, uno dei punti di forza di questa squadra. Non dobbiamo piangere per quello che ci manca, quelle che non ci sono, pazienza, ci saranno altri in campo, anche qualcuno fuori ruolo. Però per noi sarebbe proprio un bel finale di campionato, battere l'oro e onestamente mi sento di dire che se battiamo l'oro domenica il campionato è finito. Ma fin quando non battiamo l'oro il campionato continua, ci sono altre partite, noi ne abbiamo due fuori, una in casa, però se non li battiamo non è successo ancora niente. Un'altra importante vittoria, non è arrivato il tuo gol oggi, però i tuoi compagni hanno fatto il loro dovere e anche questo ostacolo è superato. Sì, mamma, non importa soltanto il mio gol, sono contento anche per i miei compagni, è stata una vittoria importantissima. In un campo difficile abbiamo fatto una grande partita e ci aspetta quella di domenica. Domenica è una partita decisiva, come ci si arriva a giocare queste partite? Già anche questa un pochettino di ansia c'era perché è una partita difficile, molto difficile. Ci siamo riusciti, ci siamo portati tre punti, ora lavoriamo per domenica e poi il campo parla. Magari il gol arriverà domenica, te lo sei preservato magari per il momento forse più bello della stagione, chissà. Sì, chissà. Sarebbe bello segnare contro i Raffadari una partita importante. Siccome siamo fatti di 24 giocatori e siamo tutti negli stessi obiettivi, sono contento per i miei compagni e per la vittoria di oggi. Speriamo bene per domenica. Mi dispiace soltanto perché mancheranno assenze importanti, come Alfonso Cipolla e Francesco Maggio. Però vinceremo anche per loro.